Creatività, progettualità e ingegnerizzazione dei prodotti. Parte da qui la strada che porta alla continua evoluzione tecnologica, così veloce da non essere in grado di percorrerla con i mezzi a disposizione. Spesso infatti l'idea rivoluzionaria ha bisogno di tempi per essere trasformata in un progetto e poi realtà. A volte invece un'idea nata, progettata e realizzata per un determinato scopo, trova una diversa applicazione e subisce una nuova evoluzione, un mondo sempre in divenire che appassiona e a volte spaventa perché ridisegna inevitabilmente anche il mondo del lavoro nel ventunesimo secolo. Basti pensare a quanto avviene con la collaborazione in remoto tra cinque parti e diversi, e di formare tra le aziende più felice, 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 promosso da Mediolanum Corporate University, l'ente di formazione di Banca Mediolanum. Lo scopo è quello di mettere in luce, attraverso un percorso multidisciplinare, le nuove professioni nate grazie all'impatto della tecnologia e dell'innovazione, elementi sempre più presenti in ogni ambito della vita quotidiana e che spesso l'hanno rivoluzionata e migliorata. A vestire letteralmente i panni del cicerone tecnologico, Giancarlo Orsini, manager di lunga e migliorata di Banca Mediolanum. Questa magnetta però ha 12 sensori. Questi sensori comunicano in tempo reale al mio smartphone questi dati. Quei 2000 lassù sono io, la mia postura. Se io in questo momento dovessi svedire, cadere per terra, cosa vedono in tempo reale dall'altra parte del mondo, ma anche voi? Non solo che sono caduto, la velocità e la direzione. Sanno, se sono fermo e mi sto muovendo, sanno la mia respirazione, la mia sensazione, poi mettono questi parametri su questi grafici in basso e abbiamo sempre le ultime 72 ore a disposizione. Prima che accade il vantaggio, sanno dove sei, in che condizioni sei, sanno che siamo dato un ricontro, col paramedico oppure no, un'ambulanza, come ricoverarti. Una rivoluzione. Orsini ha collustrato come è stato risolto un grave incidente subito da un giocatore di basket durante un allenamento. È il cranio di un giocatore di pallavolo di Motel. Questo ragazzo qua, otto anni fa, giocava in serie A. Il suo allenatore famosissimo, in allenamento, non in partita, si dimentica di far togliere le panchine a bordo campo. Questo ragazzo scivola, sbatte la testa su una di queste panchine e si sfonde il cranio in ben conno. Nel suo corso di un elicoptero lo porta lecco. Questo neurochirurgogeno gli fa un attacco alla risonanza magnetica non geografia. Con questi esami gli elabora un computer e li caccia dentro alla macchina del futuro, che qualcuno chiama ancora stampante 3D. In realtà è qualcosa di più, perché è la quarta rivoluzione industriale, è il digital manufattico. Gli replica il cranio, questa macchina perfettamente com'era, con anche la patologia dentro. Occorre un insano operatorio con le sue echipe e inizia ad operare il cavallo scritto per 16 volte, perché per 15 volte l'intervento non era riuscito. Alla sedessima volta quando l'intervento è riuscito lo memorizza dal computer, prendo il giocatore, lo opera, ma l'intervento è andato a confine. Curiosità ha poi suscitato l'esoscheletro robotico da lui indossato, una sorta di tuta bionica che trova la sua espressione più nobile e a maggiore impatto emotivo nel settore medico riabilitativo. L'esoscheletro infatti ha restituito speranza a chi non è più in grado di camminare, ma può essere di grande aiuto anche in altri settori, come ad esempio in determinati lavori o per restituire forza o resistenza perduta agli anziani. Storie che lasciano increduli ed entusiasmano allo stesso tempo e che devono spingerci a non restare passivi di fronte ai cambiamenti inevitabili. Abbiamo fatto questo viaggio verso il futuro, un futuro che molti vedono nero, in realtà è probabilmente il periodo migliore in cui potremmo vivere, intanto perché è quello dove viviamo e questo lo dobbiamo dire, ma poi in realtà le cose positive che accadono sono nettamente superiori grazie anche proprio a questa grandissima innovazione che sta attraversando tutto il mondo e viviamo nel periodo veramente migliore e sta cambiando tutto, sta cambiando il settore industriale, il settore soprattutto medico grazie alla telemedicina, sta cambiando il settore delle comunicazioni. La cosa importante però è tornare a fare gli uomini, a crederci, a sognare, a porci obiettivi importanti, a smettere di lamentarci perché sicuramente i problemi ci sono ma le opportunità credo che siano nettamente superiori ai problemi. Vivremo in un'epoca di intelligenza artificiale dove la macchina e il robot toglieranno tanti posti di lavoro all'uomo, però non sostituiranno mai quella parte dell'intelligenza emotiva, della creatività, della capacità di visione. Noi siamo il paese che ha inventato e ha dato i Natali a Leonardo da Vinci, qui è nato e si è sviluppato il rinascimento. Oggi siamo un pochino spenti, vediamo molti paesi che hanno persone con una visione meno olistica, meno di insieme della nostra, che stanno facendo dei passi più veloci dei nostri, semplicemente perché forse ci siamo stancati, però bisogna ritornarci e anzi ritornare a credere che siamo veramente stati numeri uno e lo dobbiamo tornare a fare perché comunque in giro per il mondo quando c'è un problema alla fine chi lo risolve è sempre un italiano con la sua creatività. Ad aprire le porte al progetto 110 Progresso Pasquarelli Auto, azienda desiderosa di essere al passo coi tempi in un contesto automotive che sta subendo cambiamenti epocali. Federica Pasquarelli. È stato un evento di co-marketing che ha unito appunto noi e Mediolanum che sostanzialmente sposiamo gli stessi valori, quindi l'innovazione, la tecnologia, l'orientamento al cliente e a quello che la tecnologia appunto può offrire nel futuro al cliente e insomma alle organizzazioni anche. Siamo molto felici che appunto Mediolanum ci abbia scelto per ospitare questo evento con Giancarlo Orsini. È stato davvero molto bello, c'è stato un notevole riscontro positivo. Organizzatrice dell'evento per Mediolanum, Paola Di Rocco. La partnership con il gruppo Pasquarelli nasce dalla condivisione di valori che sono fondamentali, sono fondamentali nella scelta delle cose importanti, nelle scelte di vita, quando si sceglie un'auto, quando si sceglie una banca, è importante che ci siano dei valori che sono la solidità, l'affidabilità e l'assistenza al cliente. Quindi è nata questa collaborazione, la serata è andata molto bene perché il gradimento è stato alto, quando si parla di queste cose e si porta un po' di buon umore fa sempre bene.